Ciao ragazzi, mi chiamo Giorgio Novanti e benvenuti in questo mio nuovo video. Due settimane fa mi avete visto suonare la chitarra con una moneta al posto del pettro, per la giudizia 1 euro. Ebbene, in questo video voglio farvi sentire lo stesso pezzo suonato interamente con il mio pettro al posto della moneta. A parte, pubblicherò un video con un confronto parallelo tra i due suoni, moneta e pettro. Ecco il risultato. Buon ascolto! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS A parte, pubblicherò un po' 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 di QTSS Grazie a tutti Grazie per aver visto questi miei nuovi video Se vi è piaciuto cliccate su un mi piace e lasciate un commento Se non siete già iscritti iscrivetevi Alla prossima Euro.com